Allora, ti dicevo per l'ennesima volta, praticamente è successa questa cosa, che c'erano questi due ladri e io veramente me li sono fatti scappare, cioè è una roba assurda, assurda ti dico e non so più che cosa fare, non so che cosa fare. Se hai visto la fura, va bene.